Benvenuti spettatori di Le Fonti TV a una nuova puntata del nostro Agora Marketing, il format dove discutiamo dell'evoluzione del marketing e della comunicazione. Oggi in particolar modo cercheremo di analizzare anche le nuove tendenze, i nuovi trend che riguardano il settore dell'entertainment, un settore in costante evoluzione che sta entrando proprio in una nuova era. E lo faremo con l'ospite che mi ha raggiunto qui in studio, ovvero Ilaria Nicosia, Head of Digital di Fremantle Media. Benvenuta e grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitata. Ecco, Ilaria, quando parliamo di Fremantle Media ovviamente parliamo di un marchio che tutti conoscono, leader mondiale nella creazione, nell'ideazione, nella distribuzione di programmi di intrattenimento, serie TV, documentari. Io cito insomma qualche trasmissione proprio famosa a livello internazionale, naturalmente X Factor, ma anche Got Talent, Take Me Out, Il contadino cerca moglie, potrei andare avanti all'infinito. Quindi un vero e proprio colosso, una leader insomma nel mondo dell'entertainment. Ecco, un mondo che appunto, come ho accennato nel cappello introduttivo, sta subendo una profonda trasformazione. Trasformazione che è stata accelerata naturalmente dalla digitalizzazione, soprattutto in questa era pandemica e post-pandemica. E quindi ti chiedo innanzitutto, ecco, voi che strategie digitali avete messo a punto per affrontare questa nuova era, soprattutto nell'ottica dell'esplosione e poi anche dello streaming? Beh, dunque, quando la pandemia ha colpito il mondo, Fremantle si è trovata, come tantissime società di produzione in Italia e non solo, a dovere ovviamente ripensare completamente i propri modelli produttivi. Ospiti che non potevano banalmente raggiungere gli studi, protocolli molto stringenti nella realizzazione delle produzioni televisive, ovviamente per cercare di evitare ulteriori focolai in quei primissimi mesi di lockdown. Fremantle, diciamo che ha avuto un vantaggio competitivo importante, essendo un gruppo internazionale, era molto avvezzo già all'utilizzo di sistemi di lavoro da remoto. Quindi avevamo già un larghissimo uso di piattaforme come Slack, come Zoom e altri sistemi, diciamo, di comunicazione per tenerci in contatto con i nostri colleghi internazionali. E questo sicuramente ci ha agevolati nell'affrontare quel momento di shock che abbiamo avuto tutti, sotto tutti i punti di vista. Mi piace raccontare un'esperienza in particolare di quel momento, che è stato E poi c'è Cattelan. E poi c'è Cattelan, è un programma che è sempre stato prodotto internamente da Sky, registrato, era un late show che veniva registrato e poi messo in onda. Quell'anno, proprio quell'anno, Sky invece decide che i tempi sono maturi per trasformarlo in un programma in diretta, affidando nella produzione a Fremantola anche forte del rapporto decennale che abbiamo con lui dai tempi di X Factor. Per cui noi, estremamente felici di cominciare questo percorso, ci siamo ritrovati a dover ripensare completamente. E quello che è successo è che abbiamo avuto un grosso vantaggio competitivo, c'è un dipartimento digital, insieme al dipartimento di produzione, che è stato in grado di ripensare velocemente, trasferire e traslocare per almeno tre puntate quel format sulle piattaforme social. Quindi, la presenza di piattaforme verticali sul programma, insieme a quelle del talent e a quelle del broadcaster, hanno supplito, in qualche modo, all'impossibilità di accedere allo studio televisivo, di poter avere degli ospiti. E quindi abbiamo fatto tre puntate in un formato che si chiamava EPCC Alive, anche un po' per stemperare l'angoscia che tutti ricordiamo di quei momenti. E la cosa straordinaria che è successa è che non solo hanno avuto un grande successo, ma nel trasferimento poi del formato finalmente in onda, quindi sul canale televisivo tradizionale, quello che è successo è che praticamente eravamo l'unico canale in quel momento acceso. E quindi erano gli ospiti a chiamare noi. Abbiamo avuto Michael Stipe, abbiamo avuto Dua Lipa e sono stati loro a chiamarci, proprio perché eravamo uno dei pochissimi programmi in quel momento accesi. Quindi in che misura lo streaming, quindi diciamo un aspetto tecnologico e un know-how invece legato al digitale, quindi la capacità di saper sfruttare i social, sicuramente ci ha permesso di procedere, nonostante una grande, come dire, le questioni enormi dal punto di vista produttivo che il Covid, ahimè, ha posto. Un altro esempio di come questi strumenti ci hanno aiutato a procedere, nonostante la situazione, è stato X Factor. X Factor da sempre è un programma che si sviluppa molto sul territorio nelle sue fasi iniziali. Abbiamo sempre girato molto per l'Italia, la ricerca dei talenti che avrebbero potuto partecipare poi alle audizioni. I casting si svolgevano con delle grandissime call to action, li chiamavamo gli open casting, per cui avevamo veramente centinaia di persone in tante giornate che si riunivano, sì per fare il provino ma anche per avere questa esperienza di vivere la musica collettivamente. Ovviamente questa cosa non è stata possibile. Non ci siamo però demoralizzati e abbiamo trasformato l'open casting in un casting praticamente permanente che è durato da marzo a maggio, ascoltando i ragazzi attraverso Zoom. Questa cosa che è nata come una soluzione a un problema in realtà è diventata un'opportunità perché ci ha permesso per una volta, non accogliendo i ragazzi presso una location nostra, ma essendo X Factor ad andare nelle case dei ragazzi ci ha dato un privilegio enorme che è stato quello di vederli nel loro contesto, vedere queste famose camerette di cui abbiamo tanto parlato in riferimento ai ragazzi che partecipano in X Factor e sviluppare con loro quindi un rapporto molto diverso, molto più profondo se vogliamo, quasi di mutuo ascolto, quindi non soltanto legato ai due pezzi che noi chiediamo loro di preparare ma anche diciamo una conoscenza più approfondita. E c'è talmente piaciuta questa cosa che l'abbiamo trasformata in un piccolo format web, quindi sul canale YouTube di X Factor Italia abbiamo pubblicato alcuni di questi provini, alcuni di queste chiacchiere che abbiamo avuto con questi ragazzi che in quel momento avevano anche tanto bisogno di parlare, di confrontarsi, essendosi ritrovati da soli in casa, senza scuola, senza amici. Ovviamente ecco anche insomma una flessibilità da parte del vostro team di sapersi adattare agevolmente ad una situazione che stava cambiando al di là della nostra volontà naturalmente e poi anche questa doppia ormai modalità insomma dello streaming da una parte delle piattaforme che aiutano a diffondere il prodotto, a creare appunto anche nuovi ambiti poi per la realizzazione dei programmi e naturalmente anche la modalità live che torna, di cui il pubblico anche ha bisogno del contatto proprio diretto con gli artisti naturalmente e per quanto riguarda X Factor con la giuria e questo naturalmente è molto importante. Hai citato il ruolo fondamentale dei social network, beh tu hai attraversato proprio insomma tutta la fase dall'inizio fino all'esplosione del fenomeno, abbiamo detto insomma così off records che in realtà quando è iniziato beh sì c'erano ovviamente delle interazioni soprattutto su Twitter, su Facebook ma poi sono esplosi gli altri social Instagram, adesso TikTok che va per la maggiore tra la cosiddetta generazione Z, quindi i ragazzi insomma più giovani dai 12 ai 24 anni che è anche un po' il vostro target di riferimento almeno per quanto riguarda X Factor che hai citato. Ecco ma come i social network influiscono proprio nella ideazione del contenuto del format televisivo? Beh ormai sono imprescindibili, sono imprescindibili intanto come dicevamo anche prima come fonte di scouting è ovvio che quando cerchiamo partecipanti ai nostri programmi uno dei primi luoghi in cui andiamo sono i social per cercare di vedere un po' e di anche come dire andare a pescare persone che magari autonomamente non si iscriverebbero magari senza una spinta o anche soltanto sentirsi dire lo puoi fare perché no, perché non provare. Quindi intanto i social network sono ovviamente un fantastico e meraviglioso bacino di scouting anche per diciamo per talent, conduttori e persone da mettere in video nel senso che se una volta si diceva che MTV era un po' il luogo in cui si formavano i conduttori del domani oggi possiamo dire che è TikTok, è Instagram, è YouTube, è Twitch perché no? Quindi indubbiamente i social hanno intanto un grande ruolo anche nello scouting di personaggi televisivi. Poi ovviamente sono imprescindibili per tutto ciò che è la promozione, la comunicazione delle call to action e avere un rapporto continuativo con il proprio pubblico che è fondamentale soprattutto su programmi che si ripetono negli anni e programmi che hanno una componente diciamo così importante di partecipazione, penso appunto ai talent, X Factor in particolare in cui il pubblico a un certo punto è chiamato a votare. Quindi diciamo che i social network sono indubbiamente imprescindibili. Come i social network vengono pensati all'interno di un programma dipende dall'origine, dal tipo di programma ovviamente ci sono format veri e propri che sono format di acquisizione, X Factor è uno di questi diciamo la proprietà è di Fremantle, ma è un format saico o come penso anche per esempio a The Voice Senior che stiamo in questo momento iniziando a produrre per la prossima stagione, penso a Love Island. Quindi formati codificati che arrivano diciamo nel territorio dotati di una bibbia del format quindi diciamo che lo spazio della fantasia c'è ma dentro delle maglie piuttosto strette di struttura. La bibbia ha anche una componente digitale, cioè la bibbia digitale di un format prescrive cosa è necessario ed è mandato rifare per il formatone rispetto a quel format. Tutto il resto ovviamente è lasciato ai singoli territori, quindi in questa specifica fattispecie il ruolo che i social network hanno rispetto al programma in qualche modo è codificato. Ci sono poi invece degli sviluppi originali, dei programmi che nascono da sviluppi originali infatti nel caso di Fremantle dal format department, in quel caso c'è un lavoro a quattro mani cioè il format department lavora su delle idee, nel momento in cui arriva ad avere un'idea più precisa del concept del programma a cui stanno pensando, a cui stanno lavorando contattano il dipartimento digital e ce lo raccontano e insieme proviamo a capire che tipo di social, che tipo di azioni diciamo nella sfera che attiene ai social network ma al digitale in senso più ampio, penso anche all'ipotesi di avere delle app per esempio a volte può essere utile o se non addirittura obbligatorio come il caso di Love Island e quindi si fa un brainstorming al termine del quale si decide quali sono gli elementi di interattività o comunque quali tipo di canali social verranno attivati e vengono già inseriti in fase di pitch e vendita al broadcaster in modo tale che il broadcaster ha un pacchetto veramente completo dello show non soltanto in termini di emesso televisivo ma anche in termini di portata, di conversazione che quello show può generare. Certo, è chiaro. Ecco, ci hai spiegato perfettamente come influiscono appunto i social network sulla creazione, sulla produzione del programma ma influiscono inevitabilmente anche sul momento invece della ricezione del pubblico, della fruizione perché ormai il pubblico insomma è cambiato nel tempo è cambiato parecchio, diciamo che la visione passiva dei media tradizionali degli anni 80-90 non è più ovviamente tollerabile in questa nuova era digitale, anzi il pubblico soprattutto quello giovane vuole un'interazione sempre attiva e sempre maggiore. Ecco, quali sono appunto i nuovi trend che avete proprio analizzato dal punto di vista dello spettatore? Ma dunque sicuramente il pubblico è cambiato molto, io quello che penso, se penso alla mia piccola che guardava la televisione, non ero passiva neanche io, la verità è che non avevo uno strumento per comunicare col mondo ma magari mi accontentavo di mia sorella accanto a me sul divano, quindi la verità è che nel momento in cui qualcuno fruisce di un contenuto, diciamo di un prodotto culturale che sia un programma televisivo o altro, difficilmente è davvero passivo. Quello che è cambiato è che oggi ci sono dei canali attraverso i quali far sentire la propria voce, tant'è vero che un altro ruolo importante dei social network è quello di restituire il percepito di quel programma, volendo collegare le due tematiche appena approfondite, appena affrontate. Nel momento in cui un programma va in onda è molto importante ascoltare quello il pubblico ne ha detto, una cosa che noi facciamo ogni volta che andiamo in onda, per esempio con X Factor, stiliamo un report del sentiment, soprattutto sui programmi in diretta, è molto importante perché forse il pubblico non sa in che misura noi teniamo conto delle osservazioni che ci fanno, anche per cercare di correggere laddove riteniamo che effettivamente siano osservazioni fondate, cerchiamo comunque di metterci in ascolto e questo mettersi in ascolto è fondamentale rispetto a una audience il cui comportamento è cambiato, non solo perché non è più un ascolto diciamo che rimane passivo e invece produce delle azioni, ma anche perché di fronte alla frammentazione del panorama televisivo, volendo rimanere solo sulla televisione, ma non riguarda solo la televisione ovviamente, la risposta è che le persone si affezionano al contenuto e alla comunità a cui sentono di far parte guardando quel contenuto, quindi non c'è più tanto un'affezione, cioè se penso ai miei genitori era che cosa c'è questa sera sul canale X, sul Rai 1, sul Rai 2, oggi non è più che cosa guardiamo su questo canale, ma è voglio guardare questo contenuto perché il mio gruppo di pari me l'ha suggerito, perché sento di far parte di quella comunità, quindi per lo spettatore in realtà non è così rilevante la piattaforma che sia Netflix, Prime, Rai, Mediaset, Sky, è rilevante nella misura in cui non tutti hanno accesso a tutto, ma al netto di questo quello che è importante è il prodotto e in questo senso, ritorno sul punto dei social, i social consentono di fidelizzare, consentono di costruire una comunità che si percepisce come tale e che quindi tornerà a seguire il programma perché si sente parte di una sorta di tribù e in questo penso l'Italas Got Talent, ma anche X Factor sono degli esempi, o anche non è l'arena se vogliamo, sono degli esempi in questo senso. Certo, certo, ecco, un'appartenenza ad una comunità, fidelizzata ad un determinato programma, questo è fondamentale, poi tra l'altro ecco faccio anche un altro tipo di riflessione perché è giustamente sottolineato la frammentazione, frammentazione anche temporale perché ormai siamo abituati ad avere appunto i contenuti a portata di mano praticamente sempre senza che venga rispettata una determinata scadenza all'interno della settimana, cosa che voi invece riuscite ancora a garantire attraverso appunto i vostri programmi, beh il giovedì sera di X Factor è un qualcosa che insomma tutti seguono e non è scontato di questi tempi. No, affatto, non è scontato, credo che sicuramente questa nuova abitudine di fruizione legata al binge watching, legata diciamo al video on demand ovviamente ha intaccato anche programmi come X Factor che vivono di ritualità e quindi in qualche modo il dato d'ascolto va letto diciamo nel suo accumulato della settimana perché sicuramente una parte del pubblico che era solito seguirci il giovedì ormai si è abituato appunto ad avere delle ritualità diverse e quindi a seguirlo in maniera diversa, registrato, un demando, nelle repliche. Detto questo però sicuramente ci sono alcuni appuntamenti che rimangono tali, non posso non pensare a Sanremo in questo che è cosiddetta la settimana santa per chi fa questo mestiere, musicisti. So che c'è chi prende vacanza per guardarsi. C'è chi prende ferie perché assolutamente poi ama ci va a fare delle nottate infinite quindi abbiamo bisogno di essere riposati quando arriviamo. È vero. Però sicuramente penso a Sanremo ma penso anche a X Factor, X Factor è un programma che al netto del fatto che in parte, che parte dell'audience si è spostata su un consumo più vicino all'on demand comunque rimane un appuntamento, comunque rimane un momento in cui le persone vogliono anche lì sentirsi parte, guardare quello che succede mentre sta accadendo in questo la dimensione della diretta ha ancora un importante valore nonostante appunto diciamo la prevalenza di serie tv eccetera, l'evento in diretta ha ancora una sua importanza per il pubblico e in questo senso X Factor continua ad essere un evento, un piccolo evento del giovedì sera, un'abitudine che i nostri utenti continuano a celebrare e tra l'altro venendo qui leggevo i tweet nostalgici, sono già nostalgici perché ci avviciniamo alla fine del programma. Già si sente la mancanza ecco di cosa vedere il giovedì sera, poi naturalmente ne parliamo perché appunto mancano pochissimi giorni ormai alla grande finale del forum di Asago, però prima ecco voglio tornare anche su un'altra parola chiave naturalmente del marketing e della comunicazione che è il brand e anche perché appunto parte del vostro lavoro è proprio orientata insomma al content branding, per cui ecco ti chiedo che importanza ha per un brand associare il proprio nome, il proprio marchio, la propria identità a un format televisivo. Ritorno al tema di cui parlavamo prima, il senso di comunità, il senso di far parte di qualcosa, per un brand i brand sempre di più sono molto bravi a fare comunicazione e hanno imparato molto bene la lezione che ci ripetiamo ormai da molti anni, cioè l'azienda deve essere, il brand deve essere un racconto, uno storytelling e in questo senso devo dire che la maggior parte dei brand sono diventati davvero molto bravi a coltivare le proprie community, a raccontare la loro storia, a trasformare quello che era uno spot invece in un messaggio che porta con sé dei valori relativi al brand al netto del prodotto. Tutto questo va bene, ma lo step successivo, cioè quello di associare questo sistema di valori, questo universo diciamo che il brand rappresenta a un format come X Factor o come Italia's Got Talent a seconda appunto del tipo di messaggio che si vuole dare, il tipo di target che si vuole colpire, aiuta intanto nel rafforzare quel messaggio perché diciamo la sovrapposizione del brand con un marchio così diciamo forte, con molto caratterizzato come X Factor non fa altro che rafforzare i punti in comune, i punti di contatto e poi è una modalità per colpire il target attraverso vari strumenti, quindi indubbiamente il principale è il programma televisivo sia nella fascia di daytime sia invece nella fascia di prime time, ma poi poter interloquire, conversare con tutta la fanbase di X Factor perché chiaramente i progetti che noi proponiamo ai nostri sponsor sono sempre dei progetti multipiattaforma, sono sempre dei progetti a 360 gradi che contemplano vari touch point appunto quello televisivo nella fascia diciamo pomeridiana o nella fascia serale del prime time, i social di X Factor e anche lì aiutiamo il dipartimento brand a capire quale sia la collocazione migliore per alcuni, per esempio parlo di Durex quest'anno, la sua collocazione più giusta è stata TikTok, per altri come invece non so Don Di Salotti, magari invece Facebook è stato il posto giusto perché dipende anche con quale tipo di appunto audience si vuole parlare e poi non escludiamo la presenza fisica cioè l'offline che finalmente quest'anno possiamo riproporre e quindi per esempio dei live esclusivi è stato anche un momento proprio quest'anno per quanto riguarda X Factor di un concerto, un mini concerto che è stato organizzato proprio da Durex e che ha consentito già lo scambio prima del termine della trasmissione tra il pubblico, il pubblico che seguirà poi i ragazzi ovviamente nell'evoluzione della loro carriera post X Factor e gli artisti, quindi già questo è stato un momento veramente intenso molto, i ragazzi erano contentissimi, penso di averli visti così contenti da quando sono entrati nel programma perché finalmente hanno avuto modo di cantare, di esibirsi su un palco magari piccolo però molto caldo con un pubblico di prossimità guardandoli negli occhi, quindi loro erano veramente entusiasti e quindi in questo senso l'operazione fatta con Durex mi sento di dire che sia stata vincente e per i ragazzi che si sono sentiti diciamo parte di un progetto con un brand che li ha aiutati a poter avere questo tipo di opportunità, per il pubblico che ha partecipato e anche per chi poi ha seguito diciamo da remoto attraverso gli strumenti, appunto attraverso il racconto che sui social ne è stato fatto ma ci sono tanti casi, per esempio una cosa che a noi diverte molto è per il settore automotive la secret car il giovedì a Milano gira un'auto brandizzata X Factor, nello specifico quest'anno il nostro sponsor automotive è Skoda il primo che riesce a toccare quell'auto viene portato direttamente al teatro Repower per seguire il live del giovedì quindi una cosa folle se vogliamo però molto divertente in cui quindi c'è il rischio di paralizzare il traffico di Milano perché tutti a questi immagini è successo, siamo dovuti un po' correre ai ripari ma insomma diciamo sicuramente è molto divertente perché dà la possibilità al brand non soltanto di comunicare il prodotto e i valori ma proprio di installare una relazione con il proprio target di riferimento in maniera veramente fisica, reale quando si dice ti porto X Factor ti porto, sì sì, fisicamente, esatto, letteralmente e allora l'abbiamo appunto citato ormai insomma durante tutta la durata della trasmissione X Factor è un po' il programma di punta soprattutto in questo momento visto che siamo giunti alle battute conclusivi, alla finale, finalissima del forum di Astago è stata un'edizione particolarmente bella, lo dico da spettatrice beh siamo arrivati innanzitutto alla sedicesima edizione, veramente un programma che ci tiene compagnia quasi da vent'anni dal passaggio tra Rai e Sky, addirittura ecco il programma è sempre migliorato di stagione in stagione e qui abbiamo in quest'ultima edizione tanti elementi nuovi a partire naturalmente dalla composizione della giuria rinnovata, la conduzione di Francesca Michelin e naturalmente poi l'immersione di tanti talenti soprattutto tra le band, ecco di tutti questi fattori secondo te quale ha contato di più proprio per il rinnovato successo di questa edizione di X Factor? Ma io credo che innanzitutto questa edizione marchi una grande differenza indubbiamente per tutti gli elementi che hai citato ma ce n'è uno e qua in qualche modo in senso circolare torniamo al primo punto su cui ci siamo confrontate, questa è la prima edizione del ritorno alla vita, è la prima edizione in cui noi possiamo di nuovo avere dei palazzetti pieni di persone che applaudono, che si divertono, che cantano è la prima edizione in cui di nuovo i ragazzi finalmente respirano, escono di casa, tornano a scuola e quindi iniziano anche, ricominciano anche a scrivere dei testi che sono frutto appunto di un sentimento di speranza, di rinascita e questo secondo me è importante dirlo come quadro generale chiaramente diciamo l'aver come dire portato nuovamente in video per esempio Fedez è stato un elemento importante insomma i ritorni piacciono, lui nel frattempo è molto cambiato, nel senso sono passati degli anni, è diventato padre e quindi è anche bello secondo me per il pubblico di X Factor ritrovare un Federico cambiato, diverso, maturato ma sempre in grado di andare dritto e ottenere dei grandi risultati, ricordiamoci che è stato l'ultimo a perdere diciamo dei tre talenti in gara, è stato l'ultimo a dover cedere l'ultima band nella scorsa puntata una finale che avrà un rappresentante per giudice quindi insomma una par condicio totale in questo caso sì, non voluta, che se ne dica sui social assolutamente non voluta però siamo anche contenti in realtà che ci sia questa situazione di parità tra i giudici in cui ognuno veramente si può giocare fino all'ultimo la finale quindi sicuramente diciamo questa giuria che ha creato molta curiosità e adesso possiamo dire a quasi il termine dell'edizione molta affezione appunto Federico l'abbiamo già citato Ambra è stata una sorpresa, è stato un elemento sicuramente diverso rispetto al solito che ha saputo nel corso delle settimane conquistare il suo spazio mi sento di dire che Ercomi forse è stata la rivelazione è quello che in qualche modo ha più smosso a livello social la conversazione così come Dargen anche ha portato sicuramente un grande beneficio al programma e poi grandissimi complimenti sento di farli a Francesca Michelin che si è spesa in un ruolo nuovo, diverso ha fatto semplice perché non è affatto semplice condurre un programma tanto più quel programma soprattutto quando poi bisogna anche tenere testa quando c'è un'impronta ma anche soprattutto quando bisogna anche intervenire per riportare all'ordine diciamo e nei tempi un tavolo che a volte si scalda e si scalda perché appunto ci tiene e penso che sia l'altra componente importante di X Factor quanto effettivamente è un programma che anche per chi lo fa, anche per chi lo conduce anche per i giudici stessi è veramente molto coinvolgente lo diceva anche Fedez stamattina in conferenza stampa mi ero ripromesso di non cascarci di nuovo e invece ci sono ricascato perché? Perché sì, perché sono delle emozioni assolutamente che non si riescono a vivere solo come appunto un lavoro e quindi Francesca secondo me è stata veramente molto brava e poi penso di dover fare i complimenti alla produzione a tutto diciamo il lavoro di scouting che è stato fatto di selezione dei concorrenti che sono stati portati alle audizioni perché quest'anno veramente è stata un'edizione molto ricca ricca di talenti come è stata negli anni passati ma devo dire con dei talenti molto variegati tanti generi, generi diversi, voci molto diverse le une dalle altre quindi sì, siamo davvero contenti è ricca di novità, di personaggi anche di personalità profondamente diversi che si integrano bene insomma offrono davvero un bouquet di opzioni insomma per chi ama la musica molto molto ricco e variegato e naturalmente quello che dicevi che sottolineo non è solo una partecipazione professionale da parte dei giudici ma proprio è un programma che li mette a prova dal punto di vista umano e quindi anche questo ovviamente questo sentimento viene percepito anche poi dal pubblico a casa chiudiamo la parentesi di X Factor anche se qua insomma ce ne sarebbe da parlare veramente per ore e vorrei concentrarmi invece su un altro programma targato frimanto l'Arena di Giletti ma in questo senso perché ovviamente ecco si parla di giornalismo televisivo di talk show politico, di giornalismo immersivo ce ne sono tanti in realtà ecco di programmi di questa specie anche ovviamente tra la concorrenza è un programma però quello della talk show politico che possiamo dire non muore mai anzi si rafforza anno dopo anno stagione dopo stagione e soprattutto sembra quasi impermeabile rispetto a tutte le rivoluzioni che abbiamo citato ecco ci spieghi il perché? Beh perché la televisione forse in fondo nasce anche un po' per quello prima di internet diciamo la maggior parte delle persone era solita informarsi attraverso la televisione era la nostra finestra sul mondo e quindi diciamo la valenza di un programma giornalistico di approfondimento giornalistico è innanzitutto come dire molto strutturale rispetto appunto al mezzo televisivo che innanzitutto serve a scoprire il mondo e cosa succede nel mondo e poi in qualche modo aiuta a leggere la realtà attraverso un punto di vista perché la rete indubbiamente è uno strumento molto efficace nel prendere come dire nel ricevere informazioni ma oggi siamo molto consapevoli anche di tutto il dibattito circa le fake news e la fatica e la complessità diciamo di un ambito come quello di internet in cui veramente distinguere le fonti saper leggere una notizia come tale non è sempre semplice e allora in questo la televisione probabilmente è ancora uno strumento a cui le persone si affidano per avere un punto di vista e qua torno al tema delle comunità e delle tribù poi ognuno sceglie diciamo il punto di vista che più sente vicino che più in qualche modo condivide e in questo senso Massimo Giletti ha un suo pubblico probabilmente forniglia un altro pubblico a volte sono sovrapposti a volte no quindi mi sento di dire che non è l'arena va a come dire offre allo spettatore un punto di vista degli approfondimenti e un tipo di giornalismo anche immersivo di cui si continua a sentire il bisogno nonostante i social e insieme in maniera complementare rispetto a tutte quelle che sono le fonti invece online certo ecco anche un punto di riferimento in termini di autorevolezza perché come ha giustamente sottolineato sui social si trovano tante voci tante voci distinte diciamo che ognuno poi si sente in diritto di esprimere la propria opinione su un determinato tema non avendo però molto spesso anche le basi per poter fare ecco l'esperto invece qua si parla insomma di giornalismo serio e di giornalismo autorevole con delle fonti con un lavoro anche dietro proprio di inchiesta molto potente e lo spettatore ovviamente ecco lo riconosce alla fine e quindi forse questo è proprio il valore aggiunto di un tipo di trasmissione così se possiamo ecco tirare insomma questa conclusione penso che lo spettatore abbia ancora bisogno di un volto che gli garantisca un certo standard cosa che invece in rete è più complicata diciamo dipende tanto dal grado di alfabetizzazione dell'utente cioè chi è più bravo e chi invece probabilmente fa più fatica a discernere a distinguere le notizie dal rumore di fondo chiarissimo bene io ringrazio naturalmente Ilaria Nicosia Head of Digital di Freemantle Media per averci portato nel mondo di Freemantle davvero ecco questo colosso dell'intrattenimento che ci allieta insomma con tutti i programmi ed è un punto di riferimento naturalmente per la televisione italiana grazie ancora per le tue riflessioni e naturalmente insomma ti aspettiamo presto per continuare a parlare del mondo dell'intrattenimento e naturalmente anche buona finale di X Factor grazie mille grazie a voi per l'invito e ci vediamo in finale ci vediamo in finale non ti faccio fare il pronostico perché insomma non si può dobbiamo esatto essere super parte sicuramente una cosa la possiamo dire sarà una bella sfida e ci divertiremo perché il livello anche del talento dei concorrenti è davvero elevatissimo quindi lo spettacolo è garantito questo lo possiamo dire assolutamente grazie grazie ancora Ilaria Nicosia bene termina qui dunque questa puntata di Agora Marketing non termina però la programmazione di Le Fonti TV che continua e quindi mi raccomando dopo la pausa pubblicitaria restate con noi con tutti i nostri format originali grazie a tutti